ELEGANTE, SLANCIATO Il levriere russo o borzoi ha origini antichissime e alquanto oscure. Borzoi, nome che significa in russo tanto veloce quanto abile, individua una razza che si sottrae allo schema che vuole la netta divisione dei levrieri in occidentali ed orientali. La Russia, infatti, paese per metà asiatico e per metà europeo, è la terra in cui il borzoi è cresciuto nel corso dei secoli. Questo levriere, allevato dai cacciatori russi e portato in seguito alla perfezione, è un esemplare di grossa taglia dotato della tenacia, forza e coraggio necessari per correre all'inseguimento di lupi e di altri animali selvatici, negli ampi spazi e nelle interminabili distese della regione. Affascinante e maestoso, impreziosito dallo splendido mantello, il borzoi diviene nel 1700 il cane preferito dagli zar, che provvedono al suo allevamento e ne fanno dono alle famiglie reali di tutta Europa. Attualmente il levriere russo è allevato in tutto il mondo e vanta larghe schiere di estimatori che ne apprezzano la forza, la velocità e l'aristocratica fierezza. Imponente ed armonico, utilizzato come cane da caccia e anche da corsa, ha una forma rettangolare appena accennata. Calmo e riservato, sempre sicuro di sé. Il borzoi è un avversario pericoloso nel combattimento, perché sotto l'eleganza nasconde potenza e coraggio. Nonostante sia un cane prettamente cacciatore, questo straordinario levriere si rivela un compagno affettuoso nella vita familiare. Per niente invadente, rimane fermo al suo posto senza richiamare l'attenzione su di lui. Un po' diffidente nei confronti degli estranei, difficilmente si abbandona a manifestazioni di aggressività. Sensibile, sempre pronto alla carezza del padrone, è un cane che si distingue per l'aristocratico riservo. Esemplari dolci e tranquilli, ma profondamente cacciatori, devono essere tenuti sotto controllo nelle zone abitate dalla selvaggina, per evitare inseguimenti a vista dalle inimmaginabili conseguenze. Se decidete di acquistare un borzoi, fatelo con l'assoluta certezza di tenerlo sempre insieme a voi. Infatti, cederlo ad un altro padrone influirebbe in maniera decisamente negativa sul suo carattere. Solitamente, il levriere russo ben educato è un cane dal temperamento equilibrato, senza esterismi e totalmente privo di pericolose imprevedibilità. Splendido esemplare di cane da caccia, il borzoi si distingue per la vista acuta, la grande velocità soprattutto sulle brevi distanze e per l'aggressività nei confronti della selvaggina. Cane dai riflessi scattanti e dai muscoli e tendini d'acciaio rivela il massimo delle attitudini nella caccia a vista, ad inseguimento velocissimo. Per comprendere il comportamento del levriere russo, è necessario ricordare che, nonostante la sua innata rapidità, non sarà mai in grado di inseguire e raggiungere la più veloce delle sue prede. L'inserimento di un cucciolo di levriere nella famiglia è una decisione che va attentamente valutata. Molto importante è avere a disposizione lo spazio ed il tempo necessari a garantire una crescita sana ed armonica, nonché un'educazione corretta. Il levriere può essere un cane da caccia o da corsa, ma anche un ottimo esemplare da guardia o da compagnia. Il borzoi e l'afgano possono vivere bene anche in appartamento, ma saranno senz'altro più in forma se potranno godere ogni giorno di lunghe passeggiate e di tanto in tanto di qualche galoppata in piena libertà. Le corse si svolgono all'interno di un cinodromo e sono molto spettacolari. Il fascino della corsa viene suscitato dalla folla di spettatori, arbitri e allenatori e raggiunge il massimo con la scabbiata dei cani, tutti spasmodicamente protesi nel tentativo senza speranza di afferrare la surreale lepre impagliata. La distanza normalmente per corsa è di 480 metri. I cani devono essere da un minimo di 3 ad un massimo di 6 per ogni corsa e ogni cane deve essere munito di luseruola e mantellina approvate dalla commissione corse. Una corsa è composta da manche preliminari e una finale. I cani che partecipano alla corsa sono suddivisi per classe e per sesso. Uno spettacolo veramente emozionante, offerto da animali dalle caratteristiche fantasticamente uniche. Forti, agili, velocissimi, i lebrieri sono peraltro amici fedeli, fieri e orgogliosi del loro padrone. Forti, agili, velocissimi,